Tempo di bilanci per la Guardia di Finanza che in tutto l'anno appena trascorso è effettuato sul territorio dell'area metropolitana di Bari numerosi interventi mirati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riferimento al traffico, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Le attività di controllo sono state eseguite grazie all'impiego delle unità cinofile, oltre che dei reparti della BAT e altre forze di polizia. Gli interventi si sono concentrati prevalentemente negli scali portuali e aeroportuali, oltre che nelle aree della Movida e località marine. Grazie all'ausilio dei cani antidroga Dragon, Lady, Condor, Anthrax e Ghia, specializzati nel centro di addestramento di Castiglione del Lago, sono stati sequestrati 5,5 kg di stupefacenti tra cocaina, marijuana e hashish, nei confronti di maggiorenni e minorenni sia di nazionalità italiana sia estera. Nel corso di un particolare intervento, il cane antidroga Anthrax ha individuato un kg di cocaina nascosto all'interno di un veicolo di una persona insospettabile, quantità che avrebbe fruttato, venduto al dettaglio circa 160.000 euro, nonché banconote per 57.000 euro nascoste nell'appartamento dell'uomo controllato. L'infallibile fiuto del cane Cristina, cane antivaluta, ha permesso di sequestrare 20.000 euro nascosti tra gli effetti personali di persone controllate in un'autovettura, provento di attività illecite. Le banconote erano nel vano della portiera anteriore, mentre della sostanza stupefacente era nascosta nelle gemme dei fanali posteriori. Nell'ambito delle attività di controllo sui passeggeri in arrivo al porto di Bari, invece, l'impiego del cane antitabacco Cuchi ha permesso di sequestrare in diversi interventi un quantitativo di circa 15 kg di tabacchi lavorati esteri, che si tentava di introdurre in contrabbando in Italia abilmente nascosti all'interno di auto, furgoni e tira provenienti dall'estero.